Sei un uomo interessante. Scott Lang. Ah, io non so chi sei, ma l'hai combinata proprio grossa, ok? Io sono un Avenger. E ho già avvisato gli altri Avengers. Sei un Avenger? Ti ho già ucciso in passato. Cosa? Io ormai confondo l'uno con l'altro. Tu non sei quello col martello. No, quello è Thor. Sono in tanti a confondersi, abbiamo la stessa corporatura. Chi sei tu? Solo un uomo che ha sprecato tanto tempo. Come te. Ma insieme possiamo rimediare. Allora. Hi, sono Mark Ruffalo. No. Hi, Michael Douglas here. What? Do me! Do me! Hi, I'm Dave Bautista. Ahahahahaha! Watch Marvel Studios' Ant-Man and the Wasp, Quantumania.